Una tempesta solare insolitamente forte che si è abbattuta sulla Terra ha prodotto splendidi spettacoli di colore nei cieli dell'emisfero settentrionale all'inizio di sabato, senza che siano state segnalate immediatamente interruzioni dell'energia elettrica e delle comunicazioni. L'aurora boreale si è manifestata in Gran Bretagna ma ha raggiunto anche i cieli di altri paesi europei, inclusa l'Italia centro-meridionale. Gli effetti si potranno per tutto il fine settimana e forse anche per la prossima settimana. Migliaia le foto pubblicate in tutto il mondo per il fenomeno della notte tra venerdì e sabato. Secondo gli esperti, il miglior modo per registrare l'aurora boreale è tramite macchine fotografiche o fotocamere dei telefoni, che sono in grado di catturare la luce meglio dell'occhio nido.